Alberto Angela è diventato cittadino onorario pompeano. Il comune di Pompei ha infatti riconosciuto al giornalista divulgatore scientifico il merito di aver proiettato sulla città, grazie ai suoi documentari sull'antica Pompei, una luce nuova che ha contribuito alla sua fama a livello mondiale. Pubblico di autorità, tra i quali il sindaco di Pompei Pietro Amitrano, tanti giovani e bambini in piazza Bartolo Longo hanno assistito all'evento che si è svolto su un palco allestito tra il santuario dedicato alla Madonna del Rosario e il Palazzo del Comune. Emozionato Alberto Angela ha dichiarato che il comune di Pompei ha l'età di suo padre, 90 anni, e ha ricevuto da entrambi una cultura. Si ritrova qui come in famiglia. Molto onorato, sono felice e orgoglioso. Diciamo che è un riconoscimento, un bel premio dopo quasi un quarto di secolo di servizi e questo luogo, questa città, i suoi abitanti meritano. Poi oggi tra l'altro si ricorda anche una scoperta appena fatta e devo dire che certamente rende merito a questo luogo e a questa città così ricca di storia e di capolavori.